Con questo tutorial andremo a vedere come fare la domanda, compilare la domanda per il concorso ordinario della scuola primaria e dell'infanzia, sia per i posti comuni che per i posti sostegno. Andiamo su accesso, facciamo clic su accesso ed entriamo in una pagina dove in basso troviamo l'area riservata. Fate clic su area riservata. Facendo Entra con Speed, scegliendo Poste ID, possiamo passare all'area a loggarsi definitivamente. Con il QR di Poste ID ci possiamo tranquillamente loggare e verremo proiettati nella piattaforma di istanze online. Facciamo a Consento e quindi entriamo in questa pagina dove abbiamo nell'area riservata i servizi. Andiamo a scegliere tutti i servizi e scegliendo tra tutti i servizi quello che ci può interessare, cioè la piattaforma per i concorsi, scegliamo su tutti i servizi quelli della lettera P e quindi la lettera P, piattaforme, concorsi e procedure. Facciamo clic e entriamo in piattaforma concorsi e procedure selettive. Una volta entrati andiamo, la prima istanza abbiamo già visto, abbiamo fatto diversi tutorial per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per la scuola dell'infanzia invece questa è l'istanza, il decreto ministeriale del 206 del 2023. Andiamo a compila la domanda, entriamo nell'informativa che andremo a scorrere e leggere attentamente per poi confermare attraverso un tasto verde in fondo che darà la conferma del trattamento dei dati personali e di tutta l'informativa sulla privacy presa visione. Facciamo clic e dunque, fatto clic, si può procedere e andare avanti. Si entra nella pagina per scegliere la regione. Ammettiamo di scegliere la Lombardia. Facendo ancora avanti entriamo nella pagina dove sono inseriti tutti i nostri dati personali. Facendo ancora avanti entriamo nella sezione che è il più importante che è la compila sezione. Vedete che avete tre campi obbligatori. Chiaramente l'insegnamento richiesto e il titolo di accesso è un campo obbligatorio. Andiamo a proporre per esempio per l'insegnamento della scuola primaria. Facciamo aggiungi e diamo che titolo abbiamo. Si può avere il titolo di abilitazione, chiaramente, ma il titolo di abilitazione si può avere in più modi. Cioè si può avere come diploma di maturità magistrale ante 2001-2002 oppure con la laurea in scienze della formazione primaria quinquennale ex decreto ministeriale del 2010-249. Immaginiamo di essere diplomati magistrali e dunque di fare questa scelta. Scendendo chiederà la votazione. Immaginiamo di aver preso 60 su 60. E la data del conseguimento che risale al 1989. Il 20 luglio 1989. Il conseguimento istituto magistrale Un lì di Reggio Calabria. Fatto questo si può fare salva. E la prima fase è andata con successo. Se si ha il TFA sostegno già conseguito, si può anche scegliere la tipologia di sostegno. A, D, E, E. Si fa aggiungi. Si dirà il titolo di accesso che è sempre l'abilitazione. E il titolo di specializzazione. Il titolo di abilitazione è, abbiamo detto, il diploma di maturità che abbiamo già inserito. Lo inseriamo nuovamente. E qui, in basso, come vedete, è la specializzazione. Che, per esempio, può essere, si può essere specializzati con il DM 92-2019. Votazione 100 su 100. E la data di conseguimento è il 2020. Il 30 giugno 2020. Università. Verranea di Reggio Calabria. E anche questo, diciamo, può essere salvato. Noterete che, dunque, abbiamo tutto sui titoli di accesso. Chiaramente, poi, si possono compilare i titoli di servizio, altri titoli valutabili, i titoli di riserva. Però la domanda è obbligatoria fare anche le altre dichiarazioni, in cui avrete anche da inserire l'emissione del bollettino, il pagamento del bollettino avvenuto. Perché su altre dichiarazioni vedrete che, tra le altre dichiarazioni, c'è quella del versamento. Il versamento si deve specificare di aver versato, di aver effettuato il versamento dei diritti e poi inserire tramite la scelta del file, il file, questo è obbligatorio, il file del bollettino pagato, è obbligatorio ai fini del po' in alto della domanda. Speriamo che questo video tutorial sia utile ai nostri telespettatori. Ne seguirà un altro a completamento di questo video tutorial. Arrivederci.